Il problema non è tanto battere la Ternana, è che questa partita è una partita fondamentale per noi e secondo me ci vuole tanto coraggio perché ci vuole coraggio, quindi mente sgombra e tanto coraggio e gambe, questo sicuramente, anche perché è uno scontro importante dove noi veniamo da tanti piccoli passi falsi e adesso abbiamo bisogno di fare punti. Quindi dobbiamo fare i punti e non vinciamo in casa da un po', quindi dobbiamo prenderci tre punti. Sappiamo quali sono i nostri problemi, quindi ci vuole massima concentrazione anche perché è una partita veramente da dentro fuori. Ternana ha bisogno di punti, quindi non è che viaggia ad alta classifica, quindi sicuramente è la solita Ternana, sta lì senza bilanciarsi più di tanto e cercherà di sfruttare tutto quello che gli capita. Davanti hanno giocatori come Avenatti, Monachello e Falletti, uno molto rapido che attacca bene la profondità e quindi dobbiamo stare molto attenti noi. Poi è normale che devono venire a scoprire qualcosa, devono dare, quindi a meno che non vengono per il punto, però credo che a questo punto della stagione il punticino serve a poco. Grazie a tutti.